Ah! 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 Ti ma fatti proprio in sembrimento a via! Via via via! Capit, barcos avanzate di due. Ce ne c'è qualcuno? Negativo. Presto! Se qualcosa fai... Rispondi, rispondi diavolo Hernandez, rispondimi! Che succede? Non riesco a ricevere qui. Marcus, Lo, mi sentite? Forza, qualcuno mi risponda. Qualcuno è sopravvissuto. Rispondite! Voglio un altro corpo di spedizione, subito. Uno qualunque. Chiunque. Sì, sì, ti ricevo. We USS Ravenswood. Siamo arrivati vicino alla nave e ora avvieremo le ricerche per trovarla. We Ravenswood. Passo e chiudo. Ok ragazzi, conoscete i vostri compiti. Ansel, tu andrai sul ponte principale a Pabordo. Sta attento, sarai solo. Perché sempre Ansel a divertirsi? Perché è più furbo di te, De Santos. Basta chiacchiere. Questo posto mi fa venire i brividi. Dove sono tutti? Calmati, Friedman. Ricorda, ho quel codice d'estrazione se le cose si mettono male. Comitato d'imbarco qui a Ravenswood. Il mare è troppo agitato. Noi dobbiamo tornare indietro. Siete da soli ora. Avete sentito? Tenete l'uomo. Io, l'ho sentito. Che cosa? Cosa è questo autore? Queste vecchie balleniere lusse puzzano da schifo. Cos'è? Aprite il fuoco! Sparate! Sto indietrangendo! Tornate nella mia posizione! Ripeto, tornate qui! Tenente Lansing, risponda, risponda! Tornate nella mia posizione! La mia posizione! La mia posizione! Questa porta è chiusa dall'interno. Questa porta è chiusa con un sistema elettrico. La mia posizione. Sì, no le vedi. Sì, sono venuti in tutti per noi. Torni, possono usare oltre. A me abonda questa porta. ...e ma è stata da Noi, sono venuti. Ehi, asforzano! Adonisci il suo uglo! Ciaro, ciaro, ciaro! Oggone! Questa è la valvola dell'impianto di nebulizzazione. Oggone! Paravolodladskaya pizda preebina! Paravolodladskaya pizda preebina! Devo trovare quel codice! Grazie a tutti. Lo sapevo, è chiusa. Grazie a tutti. Grazie. 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 Mi serve la manovella da inserire su questa porta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Devo stare attento a quante ne uso. Non ne ho all'infinito. Si è aperta. Grazie a tutti. 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 è chiusa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.